Abbiamo potuto fare, forse la cosa più importante per una coppia, procreare. Abbiamo fatto due gemelli meravigliosi, io a 50 anni sono rimasta incinta. Abbiamo messo un anno, due anni e l'ultimo due mesi, mi sa che era luglio-agosto, siamo andati in una vacanza da incubo. Abbiamo avuto una crisi terribile agosto 2009. Terribile, ecco perché dico non buttatevi giù. Sempre, sempre positività perché quando meno te l'aspetti le cose vengono. Cioè Elisabeth è uscita, Dylan è uscito e io ho guardato Umberto e ho detto, cioè, la vita è meravigliosa, la vita è... La vita, infatti lui è la mia vita, non è l'amore della mia vita, è la mia vita. Ma è vero che ti avevano chiesto di scegliere uno dei due gemelli perché avresti rischiato? Perché a 49 anni, quando sono rimasta incinta, ha detto Heather, guarda, dobbiamo decidere uno o l'altro. Eliminare? Che se ci pensi? Il mio sogno è di crocchiare, tu mi chiedi di eliminare uno? Maschio o femmino, quale vuoi tenere? What? Grazie. 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 Grazie.